Allo Spirito Santo, come erano in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, ame. Siano dati e ringraziati in ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Saraneto. Gloria al Padre e al Figlio, allo Spirito Santo, come erano in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, ame. Grazie Signore per l'immensa generosità della Tua presenza eucaristica. Grazie di aver voluto, dopo il tempo tanto breve della Tua vita umana accanto a noi, rimanere ancora più vicino a noi, per sempre nel tabernacolo. Grazie di metterti a nostra disposizione, di offrirti al nostro sguardo, di attenderci, di accoglierci, senza mai respingerci, di ascoltarci e di esaurirci. Grazie di aver istituito un sacerdozio, come prolungamento del Tuo, per renderti presente in mezzo agli uomini, e di aver desiderato il rinnovarsi quotidiano del sacrificio della Messa, che ci ridona perennemente la Tua persona. Grazie per l'umiltà di una presenza tanto nascosta, per questa bontà aperta a tutti, per l'invito di venire così vicino a Te, come pregustamento della contemplazione celeste, per le ore serene di contemplazione e di adorazione. Grazie per tutto il bene, per tutto il conforto e per tutta la gioia che procura agli uomini la Tua venuta in mezzo ad essi. Grazie di aver respinto fino all'estremo il Tuo amore, di aver voluto moltiplicare in tutti i luoghi della Terra il dono della Tua persona. Siero dato e ringraziato in ogni momento, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E ora riceviamo la benedizione eucaristica su tutti quanti noi, come diceva anche la preghiera, su tutti gli assenti, su quelli che sono rimasti nelle case, su quelli che sono ancora indifferenti alla presenza del Signore, e vogliamo chiedere in questa benedizione al Signore di donarci la vera gioia. La vera gioia che non è quella di sorridere per gli sbagli, gli errori degli altri o giudicando gli altri, ma la vera gioia è quella che ci spinge a coinvolgere gli altri, a guardare sempre amanti e a trovare sempre la strada per camminare insieme e costruire insieme sempre cose nuove, liberi da ogni abbattimento e scoraggiamento. Grazie. 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 Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. benedetto il suo santo nome, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paracrito, benedetto la Grammata di Dio Maria Santissima, benedetto la Grammata di Dio Maria Santissima, benedetto la sua gloriosa assunzione, benedetto la sua immacolata concezione, benedetto il nome di Maria, benedetto il nome di Maria, benedetto San Giuseppe sul castissimo sposo, benedetto Dio nel nei suoi angeli e nei suoi santi.